Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a bussi dove giunge al termine il procedimento giudiziario per accertare le responsabilità del disastro ambientale. La Cassazione ha respinto l'ennesimo ricorso di Edison attribuendo alla multinazionale la responsabilità delle discariche 2A e 2B. Ora si attende che parta la bonifica dell'area. Giuseppe Dintino. Edison è responsabile dell'inquinamento delle discariche 2A e 2B di bussi sul Tirino. A dirlo è la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della multinazionale. Termina così una vicenda giudiziaria durata anni che probabilmente ha rallentato una bonifica non ancora avviata. Tutto iniziò quando i forestali nel 2007 scoprirono sostanze pericolose seppellite a due passi dal fiume Tirino. Abbiamo sollecitato l'avvio della procedura prevista dalla legge di individuazione del responsabile della contaminazione. Non è bastata la nostra lettera perché a febbraio 2017 è dovuto intervenire il Ministero dell'Ambiente per sollecitare la provincia che è l'ente competente per questa procedura. A seguito di questo richiamo da parte del Ministero la provincia si è finalmente attivata, la provincia di Pescara. Questo ci fa dire che il ruolo dei cittadini è molto molto importante. Nel 2018 la provincia di Pescara individuò l'azienda francese in quanto erede della Mont Edison quale responsabile dell'inquinamento del polo industriale di circa 25 ettari. Così Edison, in base al principio di chi inquina paga, avrebbe dovuto risarcire la bonifica dell'area. Ne seguì una battaglia legale di tribunale in tribunale, prima in Consiglio di Stato, poi davanti al Tar e infine in Cassazione. In ogni grado di giudizio il ricorso di Edison è stato bocciato. La Cassazione infatti ha giudicato Edison responsabile dell'inquinamento delle discariche 2A e 2B rispettivamente di 12.000 e 8.000 metri quadri, dove sostanze quali solventi, clorurati, diossine e mercurio, come certificato dall'Arta, continuano a inquinare l'aria, il suolo e la falda acquifera. In base allo studio Sentieri, nella provincia di Pescara, aveva un'incidenza di malattie riconducibili a questi inquinanti superiore al resto della regione. L'unico provvedimento finora adottato è quello del capping, il rivestimento geotessile, che dovrebbe impedire all'acqua piovana di attraversare le scorie tossiche e raggiungere la falda, il cui allestimento è terminato solo all'inizio di quest'anno. Ora abbiamo Edison che deve bonificare, deve pagare le bonifiche, in realtà nel frattempo nel sito delle discariche 2A e 2B c'è un progetto approvato per la bonifica da parte dello Stato, che ha mandato in appalto le attività di risanamento del sito e ora Edison bisognerà realizzare questo progetto e Edison dovrà pagarlo. Come annunciato anche dal sindaco Carlo Masci ai nostri microfoni qualche giorno fa, la prossima settimana aprirà presso la stazione di Porta Nuova il nuovo hub vaccinale di Pescara, il servizio di Paolo Renzetti. Ora è praticamente ufficiale, la prossima settimana aprirà a Pescara il nuovo centro vaccinale presso i locali della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, assessore. Sì, abbiamo mantenuto riservata l'attività che era ovviamente sotto traccia da parte del Comune, proprio questa mattina abbiamo convocato nella sala giunta sia la ASD che gli operatori di protezione civile per risolvere alcune problematiche di carattere logistico anche sulla presenza dei volontari con il fatto che è chiuso il COC oggi, quindi formalmente dobbiamo anche risolvere delle problematiche operative. Questo ci stiamo lavorando, nel corso della prossima settimana saranno definite e quindi avremo finalmente su Pescara un hub vaccinale operativo, non certo con la potenza che abbiamo sviluppato sul Palafiere dove effettivamente è stata un'eccellenza nazionale riconosciuta anche dal generale Figliuolo. Su Pescara saranno attive 4 postazioni che avranno la capacità giorno di giorno, quindi sia la mattina che nel pomeriggio, di circa 500 dosi che saranno somministrate su prenotazione e con la collaborazione di carattere logistico della protezione civile. Con l'apertura del nuovo hub a Pescara avete in un certo senso risposto alle esigenze di una parte della cittadinanza che aveva incontrato delle difficoltà nel recarsi a Marina di Città Sant'Angelo, era stato lo stesso sindaco a richiedere alla ASL l'individuazione di un sito dove poter aprire un hub in città? Sì, è un'esigenza del territorio, non ci siamo mai tirati dietro su questa esigenza, tant'è che con il Palafiere abbiamo dato ovviamente contezza di questo nostro impegno, vista le difficoltà ovviamente dei cittadini pescaresi di recarsi fuori territorio abbiamo inteso e richiesto alla ASL di voler aprire nuovamente su Pescara per abbassare quella pressione che c'è sulla cittadinanza per ricevere questa terza dose e ovviamente con anche la somministrazione da parte dei medici, delle farmacie e quant'altro non c'è la pressione per ora perlomeno per quanto riguarda la numerosità delle persone, ovviamente contagi permettendo, a meno che non dovessero, speriamo di no, aumentare i contagi anche nella nostra città ma a quel punto anche nel nostro paese insomma Ed ora il consueto aggiornamento con il bollettino Covid della nostra regione, sono 128 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo sono emersi dall'analisi di 2.972 tamponi molecolari e risultato positivo il 4,31% dei campioni in lievamento di ricoveri il tasso di occupazione dei posti letto, 3% per le terapie intensive e 5% per l'area medica, resta comunque lontano dalla soglia di zona gialla si registra un decesso recente, si tratta di una 92enne del pescarese, scusate, il bilancio delle vittime sale a 2.565 gli attualmente positivi dopo oltre un mese tornano sopra quota a 2.000, i nuovi positivi a un'età compresa tra gli 1 e i 97 anni gli attualmente positivi sono 2.010, 69 pazienti più 2 sono ricoverati in ospedale in area medica e se invariato sono in terapia intensiva mentre gli altri 1.935 sono in isolamento domiciliare i guariti sono 46, nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 9.345 test antigenici dei nuovi casi accertati in Abruzzo, 3 sono residenti e domiciliati in provincia dell'Aquila 27 in quella di Chieti, 35 in provincia di Pescara e 58 in provincia di Teramo e noi andiamo proprio a Teramo dove il prezioso patrimonio documentale dell'archivio di Stato di Teramo sarà presto visitabile online si tratta di uno progetto finanziato dalla fondazione Tercas che sarà illustrato durante un incontro che si terrà sabato 6 novembre alle ore 17 nei locali storici dell'ex monastero Agostiniano Tania Bonici Castelli l'archivio di Stato di Teramo a ridosso della chiesa di Sant'Agostino è un luogo incantevole ex convento Agostiniano del 1200 convertito poi in carcere dal 1700 fino al 1987 possiede 12 chilometri di materiale archivistico e oltre 30 depositi un patrimonio di valore inestimabile che per essere fruibile a tutti dovrà essere visitabile online questo grande progetto di digitalizzazione finanziato dalla fondazione Tercas sarà illustrato durante un convegno che si terrà sabato 6 novembre alle ore 17 proprio nei locali storici di via Cesare Battisti a Teramo dalle pergamene della famiglia Melatino alle fotografie dell'Istituto Luce e questo è il titolo dell'incontro questo in realtà è un progetto che è già iniziato negli anni scorsi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del nostro istituto anche le pergamene delfico altre documentazioni soprattutto ecco appunto documentazione rara preziosa per la sua unicità ed importanza e questa volta pubblichiamo le pergamene del cosiddetto fondo provinciale molte pergamene, le siamo a pubblicare, sono quelle pergamene che in realtà provengono dagli antichi monasteri soppressi nel nostro territorio provinciale all'indomani dell'Unità d'Italia furono acquisiti dagli uffici finanziari che a loro volta poi li versarono all'archivio di Stato e quindi si tratta naturalmente di documenti veramente preziosi e unici come pure i cadasti antichi, quindi i cadasti antichi si intendono i cadasti pre-ongiari cioè cinquecenteschi e seicenteschi un fondo molto interessante del fondo Questura, un fondo fotografico dell'Istituto Luce tutto questo sarà messo online? il finanziamento della fondazione DERC ci permette di iniziare questo lavoro che speriamo poi di continuare via via per pubblicare, per rendere disponibili agli studiosi online tutta questa documentazione quale sarà il futuro dell'archivio di Stato di Teramo? il futuro dell'archivio di Stato di Teramo diciamo che noi ci stiamo impegnando anche da un punto di vista di miglioramento proprio della struttura tecnologico funzionale non a caso stiamo ospitando una mostra della fondazione Celommi una mostra importantissima, una biennale di incisione e di scultura che si è potuta realizzare solamente per la nostra disponibilità e peraltro per la disponibilità anche del personale, dei colleghi che si sono resi disponibili appunto a questa operazione in occasione della festa delle forze armate questa mattina a Montesilvano c'è stato il villaggio degli eroi con i ragazzi delle scuole che hanno incontrato gli uomini e le donne delle forze armate e associazioni di volontariato dopo lo stop dello scorso anno causa Covid oggi in occasione della ricorrenza del 4 novembre a Montesilvano all'esterno del Paladin Martin l'amministrazione comunale in occasione della festa dell'unità nazionale delle forze armate ha organizzato l'evento denominato villaggio degli eroi per far conoscere soprattutto ai ragazzi delle scuole chi si occupa quotidianamente della sicurezza nella società civile non solo forze armate ma anche associazioni di volontariato schierate tutte sul piazzale antistante il centro congressi di Montesilvano anche quest'anno in occasione del 4 novembre peraltro quest'anno ricorre il centenario della ricorrenza del milite ignoto abbiamo voluto riproporre il villaggio degli eroi un villaggio allestito con degli stand da parte delle forze dell'ordine delle forze armate e anche dagli enti volontari che ogni giorno prestano un servizio importante al territorio per avvicinare le nuove generazioni a coloro che in divisa ogni giorno svolgono un importante ruolo e lo abbiamo denominato villaggio degli eroi perché abbiamo voluto che i bambini, i ragazzi oltre ai supereroi immaginali della televisione conoscano in realtà chi davvero si avvicina a quello che sono i supereroi televisivi svolgendo ogni giorno un'attività che ci preserva da atti criminali, delinquenziali ma non solo, ma anche a chi in condizioni particolari presta assistenza come la protezione civile per fare un esempio, ma anche la misericordia, la croce rossa e tutti coloro appunto che si occupano della sanità pubblica è bello sindaco vedere oggi tanti ragazzi delle scuole di Montesilvano qui dinanzi al Palazzo di Marte sì, tanta soddisfazione, ringrazio i presi e gli insegnanti che hanno risposto all'appello portando tanti ragazzi ad assistere appunto a questa manifestazione una manifestazione che Montesilvano ha voluto fortemente e che vorrà riproporre anche in futuro perché ritiene importante in questa giornata dare spazio appunto a chi ogni giorno svolge un'importante attività e soprattutto per ricordare quanto queste persone in divisa in passato ma anche oggi rappresentino un ruolo importante per quello che riguarda anche il mantenimento di valori quali la pace e la sicurezza Torniamo a Teramo, scusate, dove il sindaco Gian Guido D'Alberto ha ricevuto ufficialmente in comune Davide Ciaccia il nuovo proprietario della Teramo Calcio Ciaccia propone al sindaco un project financing per il recupero del vecchio stadio comunale D'Alberto non si sbilancia, vediamo Incontro ufficiale in comune con Davide Ciaccia il nuovo proprietario del Teramo Calcio che ha rilevato da Franco Iachini la maggioranza delle quote societarie ricevuto dal sindaco Gian Guido D'Alberto Ciaccia non solo promette investimenti al fine di potenziare la squadra bianco-rossa ma rilancia anche sul vecchio stadio comunale l'intenzione sarebbe quella di recuperare l'impianto sportivo per destinarlo al settore giovanile del Teramo il sindaco D'Alberto ascolta la proposta ma precisa con convinzione che l'ex stadio conserverà la sua identità sportiva senza alcun fine commerciale la destinazione sportiva ludico-ricreativa è prevista anche da piano regolatore anche il progetto del bando delle periferie comunque prevedeva una conservazione della destinazione sportivo-ricreativa un discorso un po' più ampio quindi quella è la destinazione naturale ora non farei fuga in avanti su ulteriori percorsi sentiamo la nuova proprietà sentiamo la città perché è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci in realtà ho già avviato le interlocuzioni con la comunità terramana dobbiamo assolutamente rapportarci per la scelta della riqualificazione di quell'area con tutta la comunità perché è un'area particolarmente sensibile e sapete quanto me, se non meglio di me cosa è successo in passato in merito all'intervento su quell'area ciò a dimostrare che si tratta veramente di una zona fondamentale ecco perché dobbiamo affrontare il tema con responsabilità, serietà ma senza perdere troppo tempo perché dobbiamo assolutamente arrivare al momento della decisione intanto perché non è degno lo stato di quell'area e poi perché le risorse a disposizione ci sono ora le opportunità possono esserci ora quindi dobbiamo saperle cogliere durante l'incontro istituzionale Davide Ciaccia, supportato dal suo staff tecnico sul recupero del vecchio stadio suggerisce un project financing il sindaco d'Alberto non si sbilancia ma ricorda che i vincoli esistenti sulla struttura e il volere dei cittadini prevarranno su tutto il centro spaziale del Fucino si arricchisce di un nuovo edificio del centro di controllo Galileo il sistema di navigazione satellitare dell'Unione Europea all'inaugurazione presenti il governatore Marco Marsilio e Gianni Letta vediamo Inaugurato al centro spaziale del Fucino di Telespazio il nuovo edificio che amplia il centro di controllo Galileo operativo dal 2010 la configurazione dispone di 30 sale controllo e 50 sale apparati il nuovo centro rappresenta il cuore del progetto Galileo il sistema di navigazione satellitare dell'Unione Europea all'inaugurazione presenti l'amministratore delegato di Telespazio Luigi Pasquali il presidente della regione Marco Marsilio e il direttore esecutivo dell'EUSPA Agenzia Europea per il Programma Spaziale Rodrigo D'Acosta tra gli interventi anche quello di Gianni Letta a rimarcare lo stretto legame tra il centro di Telespazio e la terra del Fucino Telespazio è nato nel 61 qui nella piana del Fucino con un obiettivo importante che era quello di accompagnare l'Italia nel novero dei paesi capaci di utilizzare sistemi satellitari per le telecomunicazioni poi via via sono state fatte tante cose e oggi siamo un'azienda multinazionale presente in 9 paesi nel mondo con tantissime attività ma tutto è nato qua e con lo stesso spirito con cui i nostri predecessori avevano iniziato noi stiamo guardando avanti a tantissime nuove esigenze che il mercato dei servizi e delle applicazioni spaziali presenta per esempio sarà necessario in questo decennio garantire le telecomunicazioni e i servizi di posizionamento sulla Luna dove nuovamente si tornerà per operare dove è necessario sviluppare delle nuove applicazioni per proteggere lo spazio intorno a noi da tutta una serie di rischi e di problematiche che possono minacciare i sistemi satellitari che tanto servono per la vita sul pianeta e a proposito di pianeta con le nostre tecnologie possiamo fare tantissimo per supportare gli obiettivi della sostenibilità che oggi più che mai proprio in questi giorni sono sicuramente particolarmente attuali In merito all'inaugurazione del nuovo edificio di oggi le chiedo qual è il futuro del progetto Galileo? Cosa potrà portare nell'immediato ma anche nel prossimo futuro? Galileo è un'operazione strategica importantissima che l'Europa ha deciso ormai 15 anni fa di affrontare è una realizzazione complessa è un sistema che ha un'architettura molto complessa vede in questo centro uno degli angli più importanti ecco l'accrescimento del centro in realtà si riferisce ad una cresciuta capacità e potenzialità del sistema ma fondamentalmente il sistema con queste caratteristiche è un sistema che cresce in termini di sicurezza Cambiamo argomento e torniamo a Pescara dove è stata presentata la nuova edizione di 4 Zampe Expo manifestazione in calendario per sabato e domenica prossimi 6 e 7 novembre 2021 presso il porto turistico Marina di Pescara l'iniziativa è promossa dall'assessorato alla tutela del mondo animale del comune di Pescara ed è curata dall'associazione Vai Victis due giornate interamente dedicate all'animal cultura torna a Pescara un appuntamento imperdibile per gli amanti degli animali e per i loro amici a 4 Zampe che sabato 6 novembre e domenica 7 al porto turistico Marina di Pescara potranno fare un tuffo nel mondo del pet grazie alla fiera 4 Zampe Expo l'appuntamento fieristico giunto alla sua quarta edizione rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel centro-sud Italia per i professionisti e per gli appassionati del settore che potranno conoscere tutte le novità in tema di cibo, accessori, cura, divertimento e formazione dedicate agli animali la manifestazione che nel 2020 ha subito uno stop forzato a causa della pandemia è promossa dall'assessorato alla tutela del mondo animale del comune di Pescara è curato dall'associazione Vai Victis Apps e gode del patrocinio del Consiglio regionale d'Abruzzo Sì, un'attenzione molto importante perché ribadisco sotto il periodo più buio abbiamo avuto modo di accorgerci che questi grandi amici a quattro zampe ci hanno tenuto compagnia hanno fatto in modo di non farci andare, di non farci pesare ecco quello che era poi il lockdown quindi grazie a loro e questa manifestazione l'abbiamo voluta soprattutto per sensibilizzare poi quelle che sono le adozioni perché continuo a ripetere che adottare un amico a quattro zampe è veramente qualcosa di importante per noi, per i nostri bambini perché ci possono dare tanto affetto e ci possono insegnare anche tanto Due giornate dedicate ai pet lovers e al mondo dei quattro zampe perché il mondo degli animali che sono cani, gatti, comunque animali domestici sono diventati elementi essenziali per affrontare la giornata elementi per vivere anche periodi difficili come ad esempio quelli del covid in cui abbiamo molto apprezzato quello che significa un animale domestico un animale a quattro zampe quindi ci faranno tutte quelle che sono le aziende, le associazioni che mirano a far sì che ci sia una vera e propria cultura animale dell'area metropolitana che significa un miglior modo di gestire anche la vita cittadina Apriamo la pagina dello sport contento per la vittoria nel match di Coppa Italia Federico Guidi ma questo successo poi negli spogliatori aumenta l'amarezza per la brutta pestazione dei suoi contro il Montevarchi di domenica scorsa il mister poi fa anche il punto della situazione sugli infortunati in vista della delicata sfida contro la fermana ascoltiamo le parole del tecnico Biancorosso Sì, da un punto di vista mi hanno accontentato perché è chiaro che hanno fatto una prestazione estremamente positiva ma dall'altra mi hanno fatto ancora più arrabbiare perché è chiaro che la prestazione di domenica è figlia della nostra mancanza di atteggiamento nostra mancanza di concentrazione oggi è stata la dimostrazione come già c'erano state in tante altre partite precedenti che quando riusciamo a giocare di squadra possiamo essere fastidiosi contro chiunque anche con squadre come il Pescara attrezzate per i campionati di vertici quindi è tutto figlio del nostro atteggiamento dal fatto di saper soffrire tutti insieme aiutarsi l'uno con l'altro è chiaro che più riusciamo ad essere collaborativi e quanto è più facile poi anche dimostrare solidità e vincere anche i duelli oggi la squadra è da applaudire per come ha giocato con personalità, con coraggio davanti anche a dei calciatori che hanno calcato anche campionati importanti come la Serie A mi fa piacere oggi della risposta che hanno dato i ragazzi perché lo dovevamo a noi stessi lo dovevamo alla società e soprattutto lo dovevamo ai nostri tifosi e sapevamo quanto potessero tenere a un derby importante come quello contro il Pescara soprattutto venendo da una prestazione orribile che avevamo fatto a Ponte d'Era quindi per questo c'è grande soddisfazione e questo deve essere il nostro punto di partenza qua ha subito un'intrataccia ha preso nel colpo gli si è girata un po' la caviglia quindi andrà monitorato quotidianamente non sembra niente di grave però è chiaro che la caviglia si è girata quindi ora deve fare tutte le terapie del caso e cerchiamo di averlo con noi a disposizione per la partita contro la fermata Arrigoni sicuramente rientrerà a disposizione con il gruppo poi dobbiamo monitorare Soprano fino costantemente, quotidianamente e poi il resto no perché Trasciani e Cherematenga hanno bisogno di ancora molto tempo Cucurullo no e dobbiamo valutare Fiorani e mi auguro di avere a disposizione anche Fiorani Prendiamo di categoria successo in Coppa Italia anche per il Castelnuovo che regola nettamente il vasto Girardi rilancia le proprie ambizioni in campionato che vedrà i neroverdi di Guido Di Fabio impegnati all'Angelino Di Chieti proprio il tecnico ha trovato risposte anche nei giocatori che finora hanno giocato meno, vediamo Si torna a vincere, è vero ma c'è la partita con la campionatessa non abbiamo ancora persa è ancora tutta da giocare quindi a parte di scherzi penso che oggi la squadra sia andata in campo proprio concentrata determinata abbiamo visto in campo magari qualcuno che in questa parte di campionato ha giocato meno mi ha fatto capire di esserci quindi di poter contare su tutto questo gruppo ma io non avevo assolutamente dubbi quindi questo fa solamente crescere ancora più autostima in tutti quanti è vero quello che hai detto vincere aiuta a vincere e dobbiamo appunto adesso mettere già subito da parte questa partita prendere le buone cose che abbiamo fatto e pensare in questi altri tre giorni a lavorare per la trasferta di Chieti Bene Morelli, bene Borò benissimo presti anni ecco il mister è ancora più in difficoltà ma è questo sempre meglio no? No, questi erano ragazzi che venivano da infortuni e a me dispiaceva non averli avuti a disposizione adesso stanno recuperando e sicuramente magari non avranno la condizione migliore anche se Morelli a livello atletico è un animale quindi non fa fatica però sono sicuramente recuperi importanti perché mi permettono appunto di fare delle scelte più ampie abbiamo fatto male nell'atteggiamento nell'essere rimasti sorpresi da una partita vera perché anche se la Coppa Italia era una partita vera abbiamo perso quasi tutti i duelli il primo tempo abbiamo perso tantissime cose nell'attenzione nella qualità magari qualcosa nella qualità del gioco potremmo perdere quando abbiamo giocato credo mi sembra nove undicesimi nuovi ci può stare però ci alleniamo tutti insieme ci alleniamo tutti insieme alla stessa maniera non chi gioca e chi non gioca tutti uguali quindi la partita non mi è piaciuta per niente Una news di Volley l'Altino perde 0-3 contro Macerata nel turno infrasettimanale di A2 resta a quota A0 in classifica in attesa dello scontro diretto di domenica prossima a Lanciano ore 17 contro l'Aragona primo set chiuso 16-25 per le marchigiane secondo parziale più equilibrato è chiuso 22-25 per Macerata che chiude i conti nella terza frazione con il punteggio di 21-25 nella formazione abruzzese di D'Amico Cavalenca top scorer con 12 punti messi a referto che tuttavia non sono bastati per contrastare la compagine marchigiana cambiamo di nuovo disciplina le ragazze della società di ginnastica ginnica Antea di Ortona parteciperanno a Foligno 5-6 e 7 novembre alle finali nazionali di ginnastica organizzate dalla federazione vediamo loro sono le ginnaste della Gimni Cantea che si sono già qualificate di diritto per la fase nazionale del campionato individuale gold di specialità essendosi classificate tutte quante prime alla fase regionale e sono Diletta Spinosa Francesca Bellicano Maica San Vitale e Agatara Bottini e lei è la tecnica Giada Orlandi allora ne approfitto per chiedere Giada come è stata l'organizzazione di questa gara e come sta andando questo campionato sì allora stiamo organizzando da circa una settimana per il momento l'organizzazione sta andando tutto tutto bene e noi ovviamente stiamo lavorando con le ginnaste alla preparazione dei campionati italiani e ovviamente ci siamo già qualificate precedentemente durante la fase regionale perché tutte le ragazze sono arrivate prime ad entrambe gli attrezzi e speriamo bene facciamo un in bocca al lupo a tutte le ragazze che parteciperanno e incrociamo le dita E voi siete contenti di esservi già qualificate? Vai Molto E a nome di tutte siamo molto contente e siamo pronte per provare a vincere anche il campionato italiano E questa sera debutta Visionair la nuova trasmissione di intrattenimento di Giuseppe Dintino che avrà come compagni di viaggio gli spaghetti rock and roll ospite della prima puntata sarà il cantatore pennese Setac che è di ritorno dall'Ariston di Sanremo dove si è esibito in occasione del premio Tenco 2021 L'appuntamento dunque è per questa sera alle ore 21 su TV6 Ed il nostro telegiornale termina qui Io vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti.